E' Giacomo De Michile il nuovo presidente del Consiglio Comunale di San Ferdinando di Puglia. La sua elezione chiude di fatto la verifica di metà mandato avviata lo scorso mese dal sindaco Puttilli con l'azzeramento dell'Aggiunta e la sua successiva ricomposizione. Assenti in aula Grazia Di Pace e Giuseppe Di Paola, alla maggioranza servono tre scrutini per raggiungere il quorum richiesto di dieci voti ed eleggere De Michile il nuovo presidente dell'Assemblia. Le minoranze riconfermano invece Daniela Rondinone alla vicepresidenza. Svolgerò questo ruolo in modo imparziale e cercherò di valorizzare il Consiglio Comunale quindi avvicinando i cittadini alla seduta del Consiglio Comunale con una serie di iniziative che da domani mattina intraprenderò. Patti rispettati quindi nella maggioranza dove la chiusura del cerchio sui nuovi assetti amministrativi era tutt'altro che scontata. Puttilli in meno di un mese ha dovuto dare seguito a due cambi in giunta e ad un avvicendamento alla presidenza del Consiglio per continuare a mantenere saldi gli equilibri nella sua maggioranza. Nell'esecutivo ricomposto dopo l'azzeramento le novità rispetto alla vecchia formazione sono rappresentate da Floramanco a cui sono state affidate le deleghe alle politiche giovanili e pari opportunità e Carla Distaso, nuovo assessore alle attività produttive, agricoltura e polizia locale che per accettare il nuovo incarico si è dovuta dimettere dalla presidenza del Consiglio. Hanno preso il posto rispettivamente di grazia di pace tornata tra i banchi del Consiglio Comunale e di Giacomo De Michele che di fatto in una sorta di staffetta sostituisce la Distaso alla presidenza dell'Assemblea. Tutti gli altri componenti del vecchio esecutivo sono stati riconfermati il vice sindaco Arianna Camporeale con deleghe a politiche sociali e culturali Agnello Masciulli ai lavori pubblici e ambiente e Giuseppe Bruno alle manutenzioni e sport. Il tempo dirà se i nuovi assetti voluti dal sindaco Puttili serviranno a dare maggiore stabilità alla sua maggioranza.